Ma Laura, che ci fai in giro con questo tavolino? Come che ci faccio? Io busso coi piedi, si sa, e non è che busso coi piedi perché porto qualcosa, ma perché voglio che mi affarecchino questo tavolino mio caro. Ah sì? E dove vai? Scusa. Questo non si può dire, ti dico solo che questa mattina la fame è tantissima della mattina dolce. Per sapere dove vado dovete vedere, dovrai vedere, anzi proprio tu, la trasmissione su Riviera Oggi e Piciano Oggi, bussa coi piedi, estate in campana!